ok e torni, via e torni, via e torni, via e torni, via e torni, eh? Siete e torni, ok? Cambio gamba, sinistra avanti, destra indietro e partiamo e torni e torni e torni e torni. 5, 6, 7, 10, 8, 9 e 10. Ok, adesso mettiamo, facciamo l'ultimo come riscaldamento, mettiamo jab diretto e ci spariamo dentro un bel gancio, ok? Ok, perfetto, allora, e questo è il riscaldamento, perché? Non va bene? Non va bene? Non va bene come riscaldamento? Troppo blando? Troppo blando? È blando? Blando? Eh? Ti vedi? Mi rispondi? Sì, posso già, sì, ciao, ciao, allora facciamo, adesso facciamo, ok, allora, adesso facciamo gli ultimi due, ok, poi io passerò al sacco, tu il sacco ce l'hai a casa, non credo, avrai il sacco nero te, allora, quindi, abbiamo detto, jab l'abbiamo fatto, il jab diretto l'abbiamo fatto, adesso facciamo, jab diretto e ci mettiamo dentro un bel gancio, il gancio è importante, perché non è questo, non è corpo fermo e tu dai il gancio, no, il gancio è questo, c'è rotazione completa del corpo, con il movimento anche del piede, adesso tu non lo vedi, ma il piede fa, proprio gira, ok, quindi è, questo è il gancio, quindi è jab diretto, gancio, ok, proviamo, eh, no, non è, ok, dai, allora, quindi, jab diretto, no, scusa, perdono, jab diretto, gancio, uno, copertura, eh, sempre copertura, jab diretto, gancio, due, vado, eh, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, e dieci, cambio, sinistro avanti, e partiamo, quindi, jab diretto, gancio, jab diretto, gancio, vado, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, e dieci, ok, bella bro, brava, allora, adesso passiamo al sacco, adesso passiamo al sacco, e mi vado a mettere anche questa protezione in più nel polso destro, che non guasta mai, ok, la protezione in più, allora, per vedere il sacco adesso, come possiamo fare, potrei mettere questo qua, vediamo, eh, facciamo una prova, il sacco, si vede, se, 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 io lo metto qua, se, pa, 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 perfetto, ok, easy, easy, raga, mettiamo i guantoni, Allora, se non dovresti tenermi per piacere, il timer, se ce l'hai, mi fai dei timer, dei round, da 3 minuti l'uno, ok? Facciamo 3 minuti l'uno, e ne facciamo 5, 5 round da 3 minuti, ce l'hai il timer? Ce l'hai il timer? Vai! 10, 57, 58, ma come sono 10? Bah! Questa non l'ho capita. L'allenamento box, esatto. Dimmi quando sei pronto, eh? Non vedo più, eh no, non col cellulare, eh, non col cellulare. Fai così, tienilo anche con l'orologio. Non c'è l'orologio in giro. 3 minuti, insomma, 3 minuti. Anche l'orologio quello che c'è in casa. 3 minuti mi servono. E mi do attrezzare anche con questo, per forza. Dimmi quando sei pronta, eh. Quando sei pronta me lo dici e io parto, eh. Vado. 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 Grazie a tutti. 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 Ancora. Stop. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Adesso. Adesso ci mettiamo anche le gambe. Facciamo un po' di kickbox. Facciamo un po' di kick. Un po' di kickbox. Un po' di kickbox. App Allen. Accaldi. Un po' di kickbox. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.